Controlli senza sosta dei carabinieri nel rione Salicelle di Afragola. Il contrasto alla droga è nelle prime pagine dell'agenda della compagnia di Casoria impegnata quotidianamente in una delle aree più difficili della provincia partenopea. Questa volta è toccato all'isolato 27 delle Salicelle in un contenitore nero per la raccolta dei rifiuti speciali. I militari della stazione locale hanno trovato due buste di marijuana da mezzo chilo circa e uno zaino contenente 400 grammi circa della stessa sostanza, 114 di crack e 795 di hashish. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.